Codemotion Roma, siamo qui con un altro dei nostri speaker, Gianfranco Ripucci. Ciao, ben arrivato. Buongiorno a tutti, grazie mille. Grazie a te per essere qui con noi. Dunque, Gianfranco, tu lavori a Curami, l'hai fatto perché ti è ristufato di fare la fila? Sì, decisamente. Abbiamo questa applicazione che ti permette di risparmiare il tempo in fila, banalmente staccando il biglietto direttamente dal tuo telefono e in questo modo risparmiare un sacco di tempo. Infatti, senti, invece all'interno dell'azienda tu di che cosa ti occupi effettivamente? Allora, io sono sviluppatore, sono back-end developer e mi occupo della realizzazione di tutta la parte che non si vede, quindi tutto il codice dietro. Ok, perfetto. Senti, invece, per quanto riguarda il tuo talk, tu ci parli di Golang, che è un linguaggio di programmazione che in realtà sta riscuotendo poi molto successo. Quali sono le sue peculiarità? Allora, Golang è un progetto nato nel 2007 fondato da Google, quindi abbiamo un bel nome dietro le spalle, ed è un progetto che sta riscuotendo successo perché è in qualche modo la via di mezzo tra linguaggi compilati classici, C, e per esempio linguaggi di scripting tipo Python e altri. Il vantaggio è proprio quello, quindi una struttura del linguaggio molto semplice, una sintassi molto semplice e però performance molto avanzate. Perfetto. Senti, invece, per quanto riguarda Code Emotion, è la tua prima volta qui? Sei già stato magari in altre edizioni, in altre città? Questa è la mia quarta volta, la terza come... scusami, la quarta volta, tre volte come attendì e la prima come speaker. Allora, in bocca al lupo. Dici solo cosa ne pensi dell'evento? Un ottimo evento, direi che quest'anno è ancora meglio degli altri, la qualità sicuramente è molto più alta. Miglioriamo, strada facendo, perfetto. Grazie a te, grazie a te. Grazie, buona giornata, grazie.